ciao ragazzi ben ritrovate sul canale benvenute abbiamo un haul avevo accennato che aspettavo il pacco della ping panda che do scusa per i miei indumenti stirati ma purtroppo le lascio fuori fino a domani perché stirando non rimetto nei armadi la roba e quindi in una casa normale ci sta anche sto genere di fondale vediamo cosa ordinato io ho preso una promozione che si chiama early black friday da quale mi sono ricattata cioè da loro mi hanno inviato anche una busta ovviamente l'ho aperta però quella vi faccio vedere dopo che cosa mi sono presa ed è ancora attiva se andate sul sito ping panda vedrete che è ancora attiva c'è la voce dove ci sta scritto early black friday un black friday di quello ritardato credo per ora i fratelli mi sa che già cominciato comincia da domani non lo so era da un po che stavo guardando se scende un po il prezzo a questa spazzola è un dupe della foreo ma foreo costa una fucilata questa qua sul loro sito veniva intorno ai 40 passa euro ora non è che mi servisse perché ho la spazzola clarisonic ma vorrei provare anche questo genere di spazzola per vedere come si trova la mia pelle perché in un futuro mi vorrei prendere la foreo però siccome il foreo ha un costo elevato per non buttare via i soldi e poi la mia pelle magari non si trova allora dico prendo lei e comincia a fare trattamenti c'è la pulizia quotidiana e vari trattamenti perché con questo genere di spazzola si può usare anche per mettere siero maschere notturne e così via e allora ho detto vabbè prendo lei però dico se lo prende un po scontata e sta di fatto che mi è andata di botto di fortuna perché l'ho acquistata a un prezzo irrisorio 13 euro 50 raga cioè arriva così l'ho aperta perché l'ho messa in carica c'è un cavo di questo genere un po più lungo poi arriva il supporto dove sta dove si carica ok perché qui si mette attacca al cavo lo potete mettere in carica dal portatile dal pc oppure da una presa un computer e lei va così la spazzola è questa mi aspettavo che fosse piccola noi abbastanza grande non so se la dimensione reale del foreo perché foreo più o meno è così la parte morbida e in silicone e la parte un po più con i dentini un po più per fare anche tipo lo scrub sembra in silicone la mettiamo poi qui c'è il bottone di start e poi se vuoi la vibrazione un po più blanda un po più forte va attaccata qui è funzionante perché l'ho già provata per vedere se quello l'ho messa anche in carica per vedere se funziona perché non è un oggetto che lo compri lo teni lì poi 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 vi dico già che mi sono fatto una scorta di roba la maggior parte di roba e roba di skin care tranne queste due mattite di wet and white per il contorno bra che ce le ho qua ho preso queste due qua perché a parte che sono lunghe un voto io ne ho altre due in casa e mi piacciono molto la loro scrivenza come scrivo lo scrivono bene durano parecchio sulle labbra e ai voglia di questa lunghezza se non ti basta e se come quest'anno in tren sono di più i colori sul marrone marroncino questi colori tipo così sui nude ho preso questi qua perché quelli che ho io in casa sono dei colori completamente diversi spero di non aver preso la stessa colorazione perché ora sto a vedere ma sì quindi ho preso di nuovo willow che ce l'ho già pensate un po non fa niente perché questa è una matita che lo uso parecchio già guardate che io ho già temperata quindi ho preso la stessa ma l'altra che è un colore un po un burgundino e un plan beri che praticamente vedete quella che ho un color prugna comunque costo ora in saldo 1 euro 79 comunque non costano nemmeno tanto le matite di wet and white però confronto a una matita normale che potrebbe essere tipo sparte che ad esempio prendiamo una di essence guardate la differenza no quindi con queste sette le compri solo che non c'erano tanti colori assortiti perché se non mi sarei presi anche altri colori ma passiamo alla roba di skin per il contorno chi io ho già utilizzato questo siero è un siero correttore intensive lifting liftante con cellule stem e 15 macchio 10 e raccomandato per le rughe profonde queste qua intorno agli occhi che si formano io la raccomando alle peli age pelli che hanno le rughe le donne oltrepassate 45 anni perché è un prodotto liftante costo 2 euro 79 più o meno così ne ho usate parecchie confezioni e vi devo dire che per vedere il risultato per chi ha le rughe un po più profonde che si vedono specialmente in questa zona dove si forma la zampa di galina e vi devo dire che funziona ma utilizzando 3 4 flacconcini perché sennò non si vede il risultato poi la maggior parte dei prodotti sono dire vuole perché perché è un brand che su pin panda viene dall'estero e lo troviamo un costo basso ma è molto buono viene in generale dalla bulgaria della linea retinol perché loro hanno varie linee retinol forte ho preso il siero illuminator illuminante diciamo così perché stavo leggendo in inglese illuminating ma non soltanto illuminante questo promette sgonfiare le borse dare più elasticità e più idratazione alle occhiaie e con estratto di caffeina ed è sempre una un prodotto anti aging anche questo raccomandato dai 35 anni in su dovete sapere che retinolo va a essere utilizzato dai 30 anni in su mi riferisco al componente al formula retinolo ok perciò attenzione le ragazze più giovane o le signore più giovane che non vadano a toccare perché non è indicato per la pelle ok una premessa che tengo a fare anzi due non una i prodotti non mi sono stati inviati lo acquistate perciò non è un video sponsorizzato ma lo scriverò anche nella descrizione nella info box e la skin care la cosa più importante la premessa più importante dovete sapere che la skin care in generale personalizzata personale cioè io l'ho scelta in base le mie esigenze la mia età e alla mia tipologia di pelle e in base anche le esperienze con i prodotti perché ho scelto la linea rvl questo brand perché io la conosco e l'ho utilizzato anche in passato e mi fido ok altrimenti per quello che dico se scegliete scegliete ai vostri gusti pensieri nel senso che conoscenze legate alla vostra pelle e non quello che dico io cioè se vi faccio vedere i prodotti perché vi faccio vedere cosa uso nella mia routine ma non è che io dico questo di sicuro va bene anche per te non posso saperlo finché tu non lo provi ecco come anche io vedo agli altri ma se lo compro lo compro o l'acquisto o lo uso consapevole che non può sapere se la signora o la persona che l'ha pubblicizzato l'ha fatto vedere è andato a buon fine potrebbe funzionare su di me è un diciamo un riprendo una responsabilità mia ok quindi spero che sia chiaro poi dalla linea hydra therapy hanno anche una linea molto buona raccomanderei questa linea per le persone che hanno la pelle secca ma io ho preso per la parte sempre del contorno e chi mano ha anche prodotti per il resto del viso che della azione questo prodotto promette che idratazione di 24 ore ed è per prevenire a per per prevenire le ok quelle scure perché ci sono signore anche io a volte specialmente nel periodo dell'amministrazione e ok mi si scuriscono eccolo qua il prodotto è così mi piace che sono piccolini te le puoi portare anche borsetta se per caso viaggi quantità 25 ml in generale i prodotti per il contorno occhi vengono anche nei vasetti però a me questo in tubetto non dispiace assai perché riesci a portarti e quelli in vasetto a volte sono di vetro o di plastica e buono lo so devi infilare il dito cosa la spatolina e invece qui spremi il tubetto prendi la quantità giusta proprio una puntina ti serve quanto un pisello diciamo pisello quello da mangiare e te lo metti e te lo mi raccomando quando mettete questi prodotti prodotti per la contorno occhio attenzione non attaccare molto pronto proprio qui alla parte lacrimale alla waterline diciamo alla linea dell'acqua perché potrebbe anche bruciare non si sa e non mettetelo sulla palpebra se avete come me la palpebra che diventa oleosa perché se vi truccate il trucco va via ve lo dico perché lo so dall'esperienza propria invece la maggior parte dei prodotti con tornocchi non vanno solo utilizzati in questa zona li volete mettere anche l'intorno tutto così attenzione nella zona perioculare di qui di non tirare la pelle che potete rompere i capilari ed è un disastro poi rimangono e si notano e questo è una cosa che ve lo dico come consiglio perché già successo ad alcune persone per la pulizia del viso io avevo utilizzato in passato che ne avevo preso due flaconi vi giuro ho avuto per due anni quasi prodotto per la pulizia viso io avevo preso l'altra volta quello al kiwi c'era anche adesso però perché quella al kiwi ha le proprietà anti aging prevenzione delle rughe però volevo provare questo a papaya che è con che promette luminosità la pelle alla vitamina c papaya ed è per purificare e rinfrescare la pelle è un prodotto da utilizzare per la pulizia del viso ecco si può utilizzare con lei facciano fanno combo buono non mi serviva per forza sto pronto è un una scorta perché sono piena di prodotti per la pulizia del viso prove assicuro che un flacone di questo garantito 7 8 mesi non esagero costo due euro qualcosa adesso con i saldi perciò corrette perché se volete avere una pelle buona ve lo dico perché questo sì non ho utilizzato questo con papaya ma non ho dubbi che non funzionerà anche come quello l'altro quello a kiwi avendo due flaconi mi ero un certo punto stancata del secondo perché non finiva più che ho detto quasi due anni ho avuto prodotto per la pulizia ed è andato molto bene poi 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 per quella per quel trattamento settimanale che si fa e dovremmo tutte farlo cioè un peeling una esfoliazione delle maschere vanno fatte minimo 12 bara due volte a settimana se non avete tempo almeno una volta a settimana vi aiuterà e vi darà un sprint diciamo così alla vostra pelle un ringiovamento si potrebbe suonare azzardato ciava ma che cosa ci dici qua diventiamo più giovani ragazzi se voi vi mettete una routine settimana per settimana ovviamente dovete dare tempo a tempo perché alcuni pelli reagiscono da subito alcuni pelli reagiscono più tardi ma voi vi giuro che lo vedrete il risultato dovete essere solo costanti la costanza è l'unica l'unica diciamo regola che va inserita nella routine di skin care perché se tu te lo dai oggi un prodotto e poi lo rimetti fra due giorni tra nel senso che se tu la crema occhi lo metta stamattina ma stasera non ti va non puoi venire a dire che il prodotto non è buono o non ti ha fatto un beato corno perché tu non l'hai utilizzato il prodotto per il contorno occhi come esempio ok va essere utilizzato mattina e sera come regole principali no poi facciamo la routine di skin care di cura della pelle diciamo così in termini italiani la mattina ma anche alla sera perché perché alla sera perché alla sera in arco della giornata da quando noi ci siamo lavati messa crema si ero siamo andate a lavorare a fare shopping andare coi bambini abbiamo cucinato abbiamo fatto siamo uscite siamo andate al lavoro la nostra pelle ha chiapato un centinaio di sporcizia di batteri e di chissà cosa sul nostro viso e alla sera come tutti i santi cristiani nel momento quando tutti i menti prima di andare a letto ti fai una bella doccia ti devi fare anche una bella pulizia viso una bella skin care routine serale cioè ti lavi con il detergente 10 metto un contorno occhi 10 metto insieme una crema e vai a nanna questo bisogna essere come tu devi bere acqua ogni giorno perché se non bevi non vivi è la stessa identica cosa se vi entra e vi create una routine quotidiana diciamo così vedrete che starete bene sia con voi stessi ma anche la vostra pelle vi ringrazierà la stessa identica cosa e chiedo scusa se mi dilungo però non è che una fissazione dovete capire perché alcune persone hanno una pelle una pelle bella bella curata e altre no è la stessa identica cosa anche con la cura settimanale quello che vi dicevo io della del peeling del scrub della maschera e io arriviamo anche il prodotto dopo questa parlantina mi sono preso questo qual carbone nero perché al carbone nero perché ho visto che ultimamente fa ancora caldo non è quel freddo la mia pelle non è ancora cambiata ancora mista grassa in questa zona specialmente anche qui e qui non ne parliamo del naso mi sono comparsi punti neri c'è roba da chiudi tra l'altro sto aspettando un ordine che ho fatto di striscioline per anni che non usavo le strisce quelle sapete quelle che puliscono la zona del naso di qua e ora sono ritornati e perciò ho detto questo che insisto magari un pochino nella zona del naso e qui sia anche fronte mento magari mi aiuterà essendo un peeling esfolia e va in profondità ho scelto questo ma se volete ce ne sono anche delle altre tipologie poi questo prodotto l'ho già utilizzato sia l'acqua micelare che il tonico l'altra volta avevo usato il tonico per la pelle mista ma perché ero in estate adesso ho preso questo qua con acido aluronico promette una idratazione profonda anche dovuta acido all'acido aluronico però a una formula un po più idratante perché è indicato per le pelle se che sa oppure sensibili sensitive skin è così il prodotto è un tonico il tonico va messo dopo la pulizia cioè dopo che ti sei lavato con questo battufolo di cotone oppure due gocce nel palmo si riscalda il prodotto e poi si mette sul volto e poi andrà il siro e la crema e poi ho preso questo qui che non l'ho mai utilizzato però volevo provarlo più che altro l'ho preso in una quantità generosa sono 400 ml di prodotto cos'è è un tonico revitalizzante con lozione alcolica free nel senso non è contiene tanta attenzione se avete la pelle sensibile oppure se secca evitate i prodotti genere i tonici con alcol perché vi secca ancora di più questo è con estratto di nocciola e arricchito con acqua di rose eccolo qui 400 ml nei voglia e poi di recente sono qualche mese quindi non è da tanto io avevo acquistato sempre da pic panda ma dal brand makeup revolution della loro linea skin che delle essenz tipo in spray che cosa sono le essenz le essenz sono una specie di tonico barassiero perché ora vi faccio vedere che ne ho preso anche un tipo che va messo dopo la dopo il tonico per chi è indicato è indicato per le pelli mature direi dai 45 50 anni in su io non ne ho 45 ma 46 e vorrei cominciare a utilizzarli sono importanti ebbene sì sono importanti se vogliamo avere una pelle più giovane più a lungo le signore di un'età tipo 50 60 anni che hanno le rughe che si notano direi che è essenziale se ci tengono ovviamente alla loro pelle se non ci tenete non è un obbligo cioè non è un passaggio al limite prendetevi il siero che è una cosa importante ma io ho voluto inserire nella mia routine anche l'essence perché dico che da qualche perché avevo già utilizzato qualcosa dalla chicco che avevo trovato ma non ne avevo fatto tanto caso e l'ho preso tipo come tonico ma non era al tonico era una essence è così io ho preso questa liftante perché c'è scritto è una lozione tonica trattamento e se voi notate non è il classico tonico che questo è proprio acqua ok questa è un po più una formula un po più lattiginosa un po più diciamo barassiero ecco questo qua o lo mettete col batuffolo di cottone e piano piano delicatamente sul viso o se volete anche la stessa cosa frizionato nelle mani ma proprio poco non tanto fate così è così dopo di che che avete utilizzato questa essence si va di siero ok io mi ripeto lo consiglio la essence alle donne con età più avanzata se vogliono ottenere qualcosa poi come creme per il viso mi sono presa questa mi è venuta un po rotta però non fa niente ho controllato la il flacone della crema è sigillato linea retinolo forte come quella del contorno occhi ho preso la crema notte per viso collo e decollete è una crema con azione anti aging fa parte della stessa linea indicata anche dai 30 anni vi ho già detto io ho utilizzato anche quella da giorno conosco il prodotto è un prodotto buono si presenta così di nuovo molto bello da portarselo con voi se siete in siete di quelle che avete un lavoro che viaggiate spesso state fuori è un prodotto che di nuovo non infilate il dito perché nel vasetto alla fine questa facciamo tutte prima che ci ricordiamo che abbiamo la spatolina da qualche parte infiliamo il dito che non è una cosa igienica anche se il nostro volto ve lo dico già e poi ho preso ripreso questo perché questo l'ho utilizzato per parecchi anni che cos'è è una crema probabilmente qua c'è scritto like make up cream base funge sia da crema da giorno con la vitamina c acid aluronico e tritroxerutine non lo so che cavolo è questa roba qui dovrebbe dare una luminosità di la pelle ma funge bene anche come primer viso come base make up se vi truccate la mattina mettete lei e senza primer viso quindi qui se prendete questo prodotto è un prodotto che guadagnerete due prodotti in uno nel senso che a doppio uso come primer viso base make up e come trattamento illuminante per il viso poi ultime cose poi vi faccio vedere cosa c'è nel sacchetto ho preso della linea già 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 non so come si chiama chiedo scusa una linea vegan hanno dei prodotti molto buoni e quella linea che utilizza molto il latte di capra non è un scherzo andate a vedere sul sito la pink panda se non ci credete ho preso per colo e il viso una maschera ho preso tre bustine da dormire per la notte sono così sono costa pochissimo 84 centesimi è una maschera che voi la mettete come una crema e andate a dormire ha un effetto antiossidante e buona per chi soffre di cuperosde di pelle che si irrita in arco della giornata specialmente se avete preso freddo alla sera mettete lei che aiuta molto anche ad idratare io lo volevo provare ne ho presi tre in bello questo genere di mascherina perché ci non non che non fosse anche mi pare che c'era anche il flacone però ho detto va bene provare prima così in monodose perché è meglio è anche facile perché se me lo vuole portare con me in un viaggio me lo posso portare o se magari fate un weekend fuori dalla sorella dalla mamma sapete come a tanti di noi magari viviamo in un posto e i familiari li abbiamo un altro posto come a volte capita di andare da mia sorella a milano da mio fratello a torino due giorni mi porto qualche prodotto e poi ho acquistato un set si chiama dirty words mask me anything di nuovo una cosa che potrebbe essere anche idea regalo vabbè è arrivato legato con un fiocco ma io l'ho aperto perché volevo vedere che lo volevo prendere anche questo da un po' di tempo però costava su 15 16 18 no è un po' troppo anche se sono otto maschere stavolta l'ho preso a 5 euro qualcosa perciò un buon prezzo e me ne sono approfittata perché dico che è un bel pensiero perché potete farlo come pensierino per natale è un bel pensiero magari poi aggiungete qualcos'altro oppure anche come regalo di compleanno perché no cosa contiene contiene si apre così non so se sta nell'inquadratura contiene due maschere per di quelle per sotto gli occhi rinfrescanti dicono con aloe estratto di aloe vera sono così ok due maschere in tessuto per il viso che sono abbastanza queste raggiudetto che io in genere riesco a fare due volte da una una maschera illuminante con acido aluronico e estratto di ibisco e poi altre due per idratare il cappello che questa di nuovo è una maschera buona anche quando si viaggia con olio di argan a quelle qua e due per le labbra perché anche le labbra hanno bisogno di cura no sono lip mask con olio di cocco olio di cocco una aloe vera è una bella confezione che potrebbe andare bene mi ripeto anche come regalo per natale un compleanno come volete voi e ora vediamo cosa hanno regalato quelli della pink panda in questa mystery bag early black friday perché vi ho già detto la promozione si chiama così early black friday e anche la voce dove dovevo invitato ad andare a vedere se volete fare shopping e la stessa la la voce che compariva la promozione diceva che questa bag contiene prodotti in valore di quasi 44 euro ed è così fu perché io poi per quello che l'ho aperta sono andata a vedere sul sito mi sono scritto ai prezzi prezzi scontati quindi io ho fatto il calcolo ai prezzi scontati non ho preso in calcolo i prezzi non scontati perché quando non c'è la promozione pensate un po sono ancora un po più alti siccome io ho preso la maggior parte roba di skin care si vede che loro hanno scelto una mystery bag collegata più o meno ai prodotti di viso non hanno messo nulla di make up e ora vediamo cosa hanno messo ho trovato un paio di ciglia finte del brand uibo guardate che bella la confezione tutta holografica sono cilie naturali qua c'è scritto fantasy vabbè però vedete non sono non sono portabilissime nel senso che non sono pacchiane troppo a me non piacciono quelle ciglia molto forte che escono che proprio saldi ciglia finte questa proposte della mente propria ciglia naturale e hanno un costo di 6 euro 39 quindi pensate poi scontato già una maschera della seven heaven maschera della linea superfood io non ho mai usato questa linea qui ho usato maschere di seven heaven ma non di questa linea mi raccomando sono ottime queste le troviamo a volte anche da oviese da up sono molto buone questa qua è una maschera della linea superfood 24 ore di idratazione con proteine di riso e promette praticamente una idratazione long lasting di quella che ti dura per qualche giorno è interessante perché dicono che anche 98 per cento di origine naturale tra l'altro si nota anche dal dalla confezione che è qualcosa di ecologico eccola così la proveremo e vedremo vi farò semmai una recensione per vedere com'è poi un altro prodotto che mi ha stupito perché a me non non servirebbe tanto che non ce ne ho io mi sarebbe stato utile una matita di sto genere colorata non la cera perché che cos'è è della del brand webo cial la spazzolina e da quest'altra estremità c'è la cera per chi ha le ciglia quelle volte belle così questo è un prodotto buono perché se non volete colorati li potete sistemare io cosa sistemo mi serve per colorare però vabbè anche questo popò di matita vi devo dire che costa 4,79 non è che costasse poco allora arriva la ciliegia sulla torta un siero che vi devo dire ah la maschera non vi ho detto ha un costo scontato di 2 euro 2,79 perciò diciamo che non è poco la ciliegia sulla torta diciamo così arriva dal brand butters che deve essere un brand nuovo in pink panda perché non l'ho mai visto tra l'altro andrò a vedere sul sito cosa c'hanno ancora mi hanno inviato un siero con acqua termale reparatore con ceramidi sono in totale 15 ml di prodotto ma ragazzi sapete quanto viene 29,99 cioè questa scattoletta di 15 ml 30 euro cioè ho detto porca miseria e ovviamente facendo il calcolo di tutti i prodotti perché mi sono notato ogni prodotto il prezzo di ogni prodotto mi ripeto scontato già in totale arriviamo anche con questo alla bellezza di 43,96 euro perciò loro si sono attenuti a come hanno detto prodotti intorno ai 44 euro questo è il siero io non ho mai visto cioè non è che non ho mai visto ho visto tipo ai prodotti di pericone a un altro brand che ora non mi ricordo di quelli che costano un voto anche questo questo genere di sieri ah e anche la Estée Lauder fa boccette del genere scure di in vetro e i prodotti sono così anche qui vi dirò non ho mai utilizzato sta linea non vi so dire nulla lo proverò e poi vi dirò come ci sentiremo come si sentirà la mia pelle ora tornando a un totale finale tirando la somma di questo diciamo haul e shopping di early black friday è valsa la pena fare questa spesa? sì perché se facciamo il calcolo dell'ordine che è stato intorno ai 60 euro più o meno solo il costo della mystery bag ok che sono 44 euro tre quarti del dell'ordine lo sono regalato da loro in teoria no? perché io ho ricevuto i prodotti intorno ai 44 euro sì dovete provare sempre vedere quando andate sul sito che loro hanno sempre queste promozioni se spende un tot ti vengono alcuni prodotti o la mystery o puoi acquistare non so che cosa dovete fare attenzione ai codici di promozioni poi oltre quello c'è un codice sconto di 15% entro il 10 di dicembre e poi un'altra cartolina con degli sconti due altri due sconti se lo vuoi fare questo è tutto ragazzi spero che non vi ho fatto la testa così un po' più lungo questo video però ci tenevo di spiegarvi un paio di cose di farvi capire bene i prodotti perché se uno vuole una una vuole andare ad acquistare bisogna sapere che cosa non mi dilungo di più grazie per l'attenzione per la pazienza grazie per chi si iscrive e entra nella mia community se non l'avete fatto e siete di passaggio e vi va di starci qui con me vabbè non con questo quadro però raga vi ho già detto è una casa non uno studio dove si filma mi farà piacere vi mando un bacio e vi attendo sempre qui sul mio canale nei commenti scrivetemi se voi avete utilizzato qualcosa come vi si trovate se avete avuto anche voi sconti da Pimpanda attendere i vostri commenti non fate nel senso avete coraggio e scrivetemi perché io vi rispondo a presto